Come on! Buongiorno a tutti, intanto scusate per il ritardo, ho sottovalutato i tempi di percorrenza attraverso i padiglioni. Allora, benvenuti a questo nuovo talk che quest'oggi dedichiamo all'applicazione o meglio alle applicazioni del Life Cycle Assessment applicato alla pelle. Quindi oggi abbiamo con noi Andrea Fontanella di Ergo, spin-off del Sant'Anna che è un esperto di queste tematiche e tra l'altro è tra gli esperti che ha anche sviluppato le PFCR a livello europeo proprio per la pelle e non solo. Ora lascio un attimo la parola ad Andrea per così parlarci e introdurci il progetto. Buongiorno a tutti. Funziona? Ok. Buongiorno a tutti. Come ha anticipato Fabiana, oggi parliamo dell'applicazione della metodologia PEF al settore della pelle e poi del recente regolamento Made Green in Italy del Ministero che ricepisce le regole PEF sviluppate a livello europeo. Partiamo dalla PEF. La PEF è la Product Environmental Footprint, è una metodologia per fare analisi LCA, analisi del ciclo di vita che è stata sviluppata dalla Commissione europea nel 2013, è stata pubblicata con la raccomandazione 179 del 2013 ed allora è stata oggetto di continui sviluppi dal punto di vista tecnico e metodologico. Primo fa tutti quella che è stata chiamata la PEF Pilot Pays che è durata dal 2013 al 2016 in cui una serie di settori europei si sono candidati per sviluppare le regole di categoria di prodotto. Tra questi il settore della pelle che ha visto coinvolti tra gli altri ovviamente come soggetto capofila l'associazione europea Cotans e poi ha visto un ruolo molto attivo di Unic e della scuola superiore Sant'Anna come soggetto tecnico. Le regole indicano in modo molto puntuale come condurre uno studio del ciclo di vita nella pelle dalla culla al cancello ovvero dalla produzione della materia prima, in questo caso a partire dall'allevamento fino ai cancelli della conceria, prodotto intermedio si ferma ai cancelli considerando tutto ciò che entra e esce nel sistema a partire dall'allevamento, il macello, la logistica e tutte le lavorazioni che avvengono in conceria. A differenza di altri schemi per fare analisi LCA come potrebbe essere ad esempio il sistema IPD le PEF-CR europee dettagliano in modo molto puntuale tutti gli elementi da considerare nel ciclo di vita del prodotto fino ad arrivare a identificare quali dati di letteratura, quali dataset utilizzare per la modellazione e la quantificazione degli impatti della pelle così da garantire la totale massima comparabilità dei risultati. Questi sono i quattro prodotti rappresentativi su cui a suo tempo è stato condotto uno studio di screening alla base della definizione delle regole di categoria di prodotto sono quattro prodotti rappresentativi del settore, prodotti virtuali costruiti come media di tecnologie di concia e di origine animale questi sono la pelle per l'automotive, la pelle per la calzatura, la pelle per abbigliamento e il cuoio suola quindi ad oggi esistono a livello europeo delle categorie russ per condurre lo studio su questi quattro prodotti passiamo al Made Green Italy, il Made Green Italy è uno schema di certificazione sviluppato dal Ministero dell'Ambiente Italiano ora il Ministero della Transizione Ecologica che prevede come il sistema europeo che si sviluppino regole di categoria dei prodotti, in questo caso per i prodotti Made Green in Italy nel caso che per un prodotto non esistano regole a livello europeo, queste vengono sviluppate da zero su un prodotto medio italiano, nel caso come quello della pelle in cui esistono delle categorie russ a livello europeo è previsto che ci sia un recepimento delle regole europee Aggiungo solo una cosa Andrea, a questo punto che ovviamente lo schema Made Green in Italy prevede il recepimento della PEF per la parte Made Green e acquisisce le regole di doganali di origine preferenziale per la definizione di Made In quindi per le pelli possono essere definite Made in Italy tutte quelle pelli che hanno subito in Italia almeno la lavorazione, come dire, da un punto di vista del valore prevalente che è quella della tintura riconcia in grasso quindi tenendo ferme quelle che sono le regole di origine per l'origine preferenziale doganale si è aggiunta poi la caratterizzazione sulla base della PEF europea per la parte Green Esatto Come funziona lo schema? Da un lato lo sviluppo delle regole di categoria del prodotto che è appunto lo schema italiano che chiama RCP sviluppo da zero o come nel caso della pelle recepimento di quelle europee oltre al concetto di Made Green in Italy che diceva Fabiana il Made Green in Italy aggiunge un elemento addizionale a quello che è la metodologia europea ovvero il concetto di benchmark e classi di performance quindi per ogni prodotto va definito un benchmark e poi vanno definite delle classi di performance tre, la B e la C per quelle che sono le regole di questo schema solo i prodotti che ricadono in classe A o B possono accedere allo schema e quindi poi fare richiesta di uso del logo lo schema è del 2015 diciamo che poi sono un paio d'anni che sta cominciando a prendere piede anche grazie a una serie di bandi di finanziamento del ministero per sviluppare le regole ad oggi esistono una decina di RCP e poi vediamo appunto il settore della pelle come si sta muovendo ok quindi abbiamo visto la PEF il Made Green in Italy o schema italiano che recepisce la PEF adesso arriviamo al progetto Life Magis il Life Magis è un progetto cofinanziato appunto dal programma Life della Commissione Europea che vede tra i partner di progetto la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Unic, Linea Pelle che vuole supportare Linea che vuole supportare la diffusione dello schema Made Green in Italy su 8 settori produttivi italiani quindi la cipolla di medicina il pecorino romano il settore degli infissi quello della pelle quello delle ricorrenze quindi panettone e pandoro il caffè il gelato e le merendine tutti questi prodotti tranne quello della pelle sono prodotti per cui non esistono indicazioni a livello europeo solo per il caffè c'era stato un tentativo di progetto pilota europea che poi non era arrivato a termine quindi tutti i prodotti sono partiti da zero quindi con la conduzione di uno studio su un prodotto medio italiano rappresentativo nel caso della pelle invece si partiva comunque avvantaggiati dalle PEFCR sviluppate a livello europeo quindi cosa è stato fatto nell'ambito del progetto Magis c'è stato prima un recepimento delle PEFCR europee quelle che sono poi una bozza di possibili regole di categoria dei prodotti per la pelle nell'ambito dello schema Life Magis quindi qua rivediamo i prodotti rappresentativi coperti dalle PEFCR sono quelli che vedete quelli che abbiamo visti prima quindi automotive, calzatura, abbigliamento e cuoio suola e poi c'è stato tutto un lavoro addizionale ancora come dire ancora in bozza suscettibile di miglioramenti di approfondimenti che è quello della definizione per questi quattro prodotti rappresentativi di benchmark e classi di performance benchmark e classi di performance vengono calcolati sulla base di quelle che sono le categorie di impatto più rilevanti per il prodotto la metodologia PEF richiede che ne vengano calcolati il profilo ambientale rispetto a 16 categorie per quello che richiede il regolamento Made Green Italy il benchmark viene poi calcolato solo su quelle che sono le tre più rilevanti per il prodotto quindi qua poi vedete un valore di benchmark che è un valore totale come una sommatoria dei valori di impatto rispetto alle tre categorie sempre nell'ambito del Life Magis la fase successiva dopo lo sviluppo delle regole di categoria in bozza è stato quello di coinvolgere tre aziende del settore a cui fare testare queste regole e anche il benchmark e classe di performance il posizionamento rispetto al benchmark le tre concerie che hanno aderito al progetto sono Bicende Concerie il gruppo Dani e la DMD di Solofra qui vediamo risultati macro aggregati per una pelle una pelle bovina ovviamente il risultato è quello che un po' comunque conosciamo quindi la peculiarità del settore di cui l'impatto è prevalentemente concentrato sulla fase di sulla fase del ciclo di vita quello che è chiamato pelle grezza quindi la fase che considera l'allevamento il macello e l'approvvigionamento quindi sui diciamo 16 indicatori qua ne abbiamo considerato uno che è quello relativo al climate change e qua vediamo quella che è un po' la ripartizione tra quello che deriva dall'upstream cioè dall'allevamento perché dal macello si arriverà a poco e invece quella che è la quota parte della conceria mentre il grafico sulla destra di fatto è un dettaglio della parte della torta verde è un dettaglio quindi fatto 100 la quota verde quindi quello che è la conceria il grosso degli impatti si concentra sulla fase di chimici quindi considera l'impatto legato alla produzione dei prodotti chimici usati in conceria a cui seguono poi i consumi energetici quindi energia elettrica e gas metano e piccola parte emissioni atmosfera e packaging è un risultato come dire i risultati li ho già visti per cui non sono stupita più di tanto però è abbastanza indicativo vedere perché uno si immagina magari come impatto per il climate change una come dire una rilevanza maggiore ad esempio per il consumo energetico per il consumo di energia elettrica per la logistica ad esempio invece qua vediamo come di fatto invece in conceria chi fa la parte del leone e chi di fatto sposta un po' l'ago della bilancia è l'impatto che è correlato ai prodotti chimici che vengono utilizzati sì quindi impatti proprio produttivi o anche legati banalmente ai quantitativi utilizzati questo è come diceva Fabiana un risultato solo legato alla categoria di impatto cambiamento climatico l'unica che abbiamo riportato diciamo che la situazione più o meno si ripete anche sulle altre categorie di impatto diciamo che la parte di allevamento comunque va sempre a coprire almeno un 50% dell'impatto complessivo della pelle seppur i fattori di allocazione dell'impatto dell'allevamento sulla pelle siano relativamente bassi nel senso ricordiamo che comunque del totale dell'allevamento un 12% viene allocato alla carne e l'88% tutto il mondo dei latticini su una base di un'allocazione biofisica poi quando la carne che entra in macello l'animale l'animale che entra in macello dunque siamo già morti quando l'animale che entra in macello solo 3,5% esatto solo un 3,5% dell'impatto viene allocato alla pelle se poi la pelle viene a sua volta spaccata c'è un'ulteriore allocazione quindi solo il 63% dell'impatto va al fiore e il restante alla crosta e quando il macello scusa se ti interrompo il macello l'allocazione è economica esatto su base economica quindi questo solo anche per dare ulteriore evidenza del fatto che a volte quando si dice gli animali vengono uccisi per la pelle cioè anche da un punto di vista economico anche la modellazione poi di fatto fatta dalla commissione europea di fatto il dato medio dice che un 7% in massa del macello è pelli e a questo 7% viene allocato solo un 3% dell'impatto 3,5% dell'impatto complessivo sulla base appunto di fattori di tipo economico tutti questi valori sono stati decisi diciamo dal livello europeo centralizzato dal jersey della commissione vista anche la difficoltà di mettere d'accordo poi i settori della concia della carne del mondo dei latticini ci hanno discusso un anno e mezzo ci hanno discusso un anno e mezzo e poi non trovando un accordo sono stati decisi a livello centralizzato dalla commissione comunque anche altri schemi come ad esempio poi lo schema EPD si stanno adeguando che prima avevano fattori di allocazione magari leggermente a livelli stanno comunque recipendo queste indicazioni emerse in sede europee questi risultati in generale di uno studio LCA ma poi anche nell'ambito del progetto Magis sono la base per ora individuazioni di azioni di miglioramento quindi ogni azienda partecipante è stato chiesto di individuare possibili azioni di miglioramento che andremo a simulare e poi verranno anche testate modalità di comunicazione delle performance ambientali dei prodotti tengo a ricosare che tutto questo esercizio ad ora è limitato al progetto Life Magis che ha sviluppato delle regole di categoria di prodotto e ha definito dei benchmark così come richiede lo schema Made Green Italy ad oggi queste non sono regole ufficiali approvate nell'ambito dello schema Made Green Italy poi ci sarà uno step successivo quindi questo diciamo è una sorta di definiamo l'esercizio allora che comunque fa una parte del lavoro che poi è richiesto dello schema poi per poter diciamo accedere a quello che è veramente lo schema Made Green Italy per un articolo in pelle manca poi lo step diciamo di presentazione delle RCP al Ministero dell'Ambiente l'approvazione da parte dello stesso e quindi a quel punto poi ci saranno disponibili le RCP per per gli articoli in pelle tra l'altro poi quello che diceva Andrea è anche particolarmente interessante perché ci dà anche un po' la tara di quello che è l'utilizzo poi in generale degli studi LCA ma anche delle PEF in particolare che è quello di avere che è un po' anche la ragione per cui sono nate quindi non tanto quello di essere come dire uno strumento comparativo tra materiali diversi che hanno poi regole di calcolo diversi ma proprio quello di essere uno strumento che ci dà la possibilità di è un ottimo strumento di miglioramento perché ci dà di miglioramento continuo perché ci dà anche l'indicazione su dove dobbiamo andare ad agire per ridurre quella che è l'impronta ambientale complessiva del nostro articolo sì assolutamente è giusto ricordare anche da tecnico LCA che il confronto con materiali alternativi su cui sono stati connoti i studi con altre regole non dovrebbe mai essere fatto anche se poi ovviamente è spesso quello che interessa è sicuramente l'utilizzo dello strumento è quello più ad uso interno quindi ad esempio anche trovare indivisazioni di miglioramento e fare comparazione tra interna tra propri prodotti magari con tecnologie di concia differente comunque già dalle prime discussioni con le aziende spunti su cui ragionare per trovare azioni di miglioramento ne sono ebersi soprattutto poi entrando anche nel merito che qui non è riportato dello spaccato dei chimici quindi quali chimici potete anche forse facilmente immaginarlo poi comunque quali chimici contribuiscono di più all'impatto complessivo e quei chimici contribuiscono con un impatto così rilevante sia in virtù anche come si diceva prima delle quantità relative che ne vengano utilizzati ma anche perché ovviamente ogni prodotto chimico ha a monte una sua produzione con tutta una serie di impatti che partono anche lì dall'estrazione delle materie prime fino ad arrivare poi al processo alle lavorazioni eccetera a proposito dei chimici diciamo uno degli aspetti positivi della metodologia PEF è che nel bene o nel male con i grossi limiti che esistono ad oggi nei database per fare LCA legati ai chimici la metodologia ha identificato ha sviluppato i migliori dataset ad oggi disponibili per modellare tutta la parte di chimici rendendoli obbligatori per chi vuole fare uno studio PEF e quindi un domani magari uno studio Made Green Italy questo garanzia dell'assoluta comparabilità dei risultati resta sempre ovviamente la libertà nel caso un'azienda sia in grado di ottenere dati primari da un produttore di chimici di modellarlo con dati migliori ma in assenza diciamo che la metodologia dà indicazioni molto puntuali su come condurre lo studio e quali dati utilizzare tra l'altro poi questo strumento dell'EPF comunque dell'LCA in generale è comunque uno strumento che sarà anche come dire sempre più valorizzato sia intanto dalla Commissione Europea ad esempio anche in tutta la parte di come dire valutazione di quelle che saranno i prodotti e le attività sostenibili proprio perché è un approccio come dire tecnico scientifico molto robusto tra l'altro leggevo giusto ieri su LinkedIn che la Danimarca per un attimo bloccare e frenare un po' anche il fenomeno del greenwashing ha deciso di fatto di vincolare un po' a qualunque claim green il fatto di avere a disposizione uno studio LCA che supporti e validi qualunque claim ambientale che viene attribuito ai prodotti che poi vengono messi in commercio sì assolutamente il trend ormai è quello che per fare comunicazione green sarebbe buona cosa avere sempre alle spalle uno studio LCA poi non necessariamente PEF una cosa un'aggiunta sul made green ecco nell'ambito del made green si è introdotto per la prima volta il concetto di benchmark e classi di performance per la pelle che ad oggi non esiste a livello europeo non esisteva perché la pelle era un prodotto intermedio quindi non c'era l'obbligo di pubblicare un valore di benchmark non esistevano le classi di performance nella nuova revisione del regolamento PEF entra il discorso delle classi di performance 5 invece di 3 quindi non nell'immediata revisione della PEF CR della pelle di cui parliamo dopo ma è verosimile comunque il discorso anche del posizionamento e della valutazione rispetto a una scala classi di performance entrerà anche a livello europeo quindi comunque anche questo è un esercizio per portarsi avanti su una tematica che nei prossimi anni emergerà anche in sede europea ultima cosa il futuro delle PEF CR e delle RCP come ho detto le PEF CR della pelle sono state sviluppate nel triennio 2013-2016 poi in realtà il progetto pilota era anche andato per le lunghe la validità delle PEF CR europee di tutte le PEF CR non solo sulla pelle era al dicembre 2020 poi era stato prolungato al dicembre 2021 ora sono ufficialmente scadute quelle della pelle e tutte le PEF CR esistenti nel corso di quest'anno si spera è prevista quella che è la light review delle PEF CR quindi non sarà un aggiornamento non verranno stravolte nella sostanza la struttura dei modelli alla base resterà la medesima i prodotti rappresentativi e le loro composizioni sono quelli che comunque abbiamo già visto ci sarà un aggiornamento in termini di nuovi data set più aggiornati più precisi sviluppati dalla commissione europea correzione di alcuni errorini che poi negli anni nell'utilizzo si sono riscontrati dovrebbe cominciare ufficialmente si spera primi di aprile con il rilascio da parte della commissione dei nuovi data set l'implementazione poi nei software commerciali per fare LCA e appunto andando attraverso una serie di fasi di consultazioni a livello europeo si spera che per dicembre siano disponibili le nuove PEFCR europee parallelamente il settore dovrà capire se è interessante portare avanti anche il discorso del RCP a livello italiano e pubblicarle ecco no no vai scusami no volevo solo far notare le RCP del gelato in vaschetta queste sono le RCP sviluppate nell'ambito del progetto Life Magis il settore aveva proprio interesse e fretta di farle approvare e sono le prime spero non le ultime RCP che sviluppate nell'ambito Magis avranno un riconoscimento anche a livello nazionale speriamo anche perché come dire mentre la diciamo che la PEF stabilisce delle regole di calcolo da una modellizzazione quindi di come calcolare l'LC applicata ai vari materiali di fatto quello che è il Made Green in Italy è una certificazione un'etichetta se vogliamo definiamola in maniera un po' brutale etichetta ecologica di cui poi ci si può anche freggiare sugli articoli e quant'altro sì sì assolutamente poi lo scopo è un po' quello ecco poi l'altro passaggio è appunto che essendo uno schema il ministero ha stabilito lo schema di certificazione poi sarà previsto l'intervento di un ente di certificazione o comunque di un soggetto terzo che validerà quelli che sono poi gli studi e darà poi il percorso è simile a quello più noto dello sistema IPD quindi comunque nell'ambito del Made Green è necessario sviluppare una D-App la dichiarazione di impatto ambientale che è altro che non è che un IPD del più noto sistema internazionale IPD c'è l'obbligo poi di apporre il logo sul prodotto a differenza del schema IPD questo sì appunto lo studio la base la D-App andranno sottoposti a un ente terzo ad oggi c'è un primo ente che è già stato accreditato csqa se non erro comunque appunto tutti gli enti sono pronti eventualmente a accreditarsi per verificare accreditamento a credia ovviamente sì sì accreditamento a credia e niente l'RCP sicuramente adesso andrà anche valutato ovviamente la parte più delicata è il discorso di benchmark e classi di performance come avete capito comunque anche i benchmark che sono costruiti su prodotti virtuali che sono un mix di tecnologie di origini animali perché l'esercizio europeo non serviva a dettagliare oltre se vi ricordo all'inizio le categorie di prodotto erano molto più estese c'era una matrice di dettaglio molto più estesa che poi è stata come dire molto sintetizzata e compattata dalla stessa commissione esatto l'esercizio era soltanto per fare uno studio la base e capire quali erano le variabri in gioco e definire i migliori data non essendoci una necessità di comparazione il prodotto avrebbe potuto anche essere uno mix di tutto per quell'esercizio nel made green diventa molto più rilevante la costruzione del prodotto rappresentativo quindi non c'è da escludere che magari andrà approfondito quell'aspetto dettagliando ecco nell'ambito dello schema made green in Italy se c'è la PFC europea va recepita è possibile dettagliare di più i prodotti rappresentativi quindi modificarla aggiungendo un maggiore dettaglio questo è possibile quindi è sicuramente un aspetto da valutare anche perché poi nella parte ad esempio di allocazione degli impatti adesso non so se magari avete dato anche un'occhiata ai numeri della tabella i materiali che sono anche più spessi quindi dove c'è una massa maggiore risultano anche avere ovviamente un impatto maggiore sì per cui anche quello sarà problemi maggiori che riscontriamo ovviamente prodotti con spessore diverso non necessariamente hanno la stessa finalità d'uso ma finiscono a confrontarsi con il medesimo benchmark quindi questo sarà oggetto dei prossimi sviluppi credo di aver grazie Andrea terminato sì era l'ultima questa era l'ultima grazie molto Andrea interessantissimo grazie ci sono domande curiosità sì no dicevo se sulle pelli di rettile quindi allegatori coccodrilli cioè qualche perché già qualche edizione fa si cominciò a parlare di carbon food quindi fu detto che sul rettile non è applicabile la situazione è la medesima quindi bovino vino caprino quindi io comunque potrei fare sul rettile un LCA però rimarrebbe non sarebbe PEF compliant ci si può ispirare alla PEF ma non non esistono neanche dataset per per il rettile ma per assurdo non esistono dataset neanche per differenziati per ovino e caprino quindi comunque si usa il medesimo dal rettile ahimè siamo ancora molto distanti esatto qua la valutazione che si può fare come diceva Andrea è quello di usare come dire la PEF come riferimento però allora intanto avreste comunque la necessità di recuperare dati primari perché ovviamente poi la come dire il ciclo di vita del rettile è ovviamente è ovviamente diverso nel senso che lì poi l'allevamento cioè per assurdo può essere magari più semplice recuperare i dati di un rettile allevato piuttosto che poi la stessa cosa vale che ne so anche in caso di allevamento di pitoni o comunque di tutta la parte come dire esotica tenendo conto che per assurdo non è il caso del rettile però ad esempio l'abbiamo valutato per altre per altre origini nel caso in cui supponiamo che le pelli derivino da animali wild quindi che derivano ad esempio da campagne di abbattimento in quel caso come dire la vita wild non porta alcun impatto alla PEF cioè è come se avessero un'allocazione a monte pare a zero però in ogni caso ahimè restano fuori da queste regole però come dire il modello c'è il calcolo si può fare prendendo poi quelli che sono i dati primari ok grazie altre domande curiosità volevo chiedere quali sono gli altri indicatori che hanno un benchmark oltre al climate change le altre categorie di impatto chiedo aiuto al pubblico credo che il particolato e l'acidificazione quelli emersi come i tre più rilevanti grazie che poi sono anche le tre che vengono usate per il calcolo anche dei valori di RCP per il raffronto dei dati con il dell'EPEFCR nell'EPEFCR europee sono di più le categorie di impatto rilevanti no in quelle che vengono considerate per il calcolo del benchmark quindi entra anche il consumo di risorse il consumo di acqua poi per l'esercizio del made green solo le tre più rilevanti vengono considerate e sommate per il calcolo del benchmark ecco poi diciamo che nell'ambito dei supporting studies che sono stati fatti nell'ambito del magis diciamo che più o meno anche come categorie rilevanti quantomeno sulle prime due ci si ritrova la terza magari può variare tra un'azienda e l'altra si sono stati confermati i risultati in gran parte risultati degli studi medi europei resta il fatto che comunque quelle sono le categorie su confrontarsi se uno studio specifico su un prodotto individuasse altre categorie di impatto rilevanti comunque il confronto va fatto sulle tre identificate dalle FCR dalle RCP fortunatamente sul settore della pelle non abbiamo evidenziato grossi scostamenti da questo punto di vista ok poi se siete interessati a un approfondimento sul sito ufficiale del progetto che è lifemagis www.lifemagis non mi ricordo se è .ito.com comunque trovate tutte le tutte le informazioni e anche della documentazione di supporto e comunque qualora avesse necessità di approfondimenti noi siamo a disposizione grazie a tutti buona giornata come on www.lifemagis.com grazie a tutti Grazie a tutti.